Quinta edizione del Salone del Mobile, la prima a Salerno, quali sono le novità e quali sono le tante iniziative in programma per questa settimana? Sì, la prima a Salerno, finalmente il Salone del Mobile trova la sua collocazione in quanto la denominazione esatta è Salone Provinciale del Mobile, quindi per noi è un momento di vanto poterla fare finalmente a Salerno. Tante le novità sicuramente, il Salone del Mobile è conosciuto come Salone dell'arredamento che presenta in anteprima quelle che sono le novità nel settore del design, riportandole anche dai saloni di Milano, non possiamo assolutamente paragonarci, però è un piccolo inizio, è un progetto che nel tempo si sta evolvendo e nell'evolver si trova la collaborazione, la partnership di istituzioni importanti. Negli anni siamo riusciti praticamente a coinvolgere anche gli ordini professionali, quindi che ringrazio anche e soprattutto l'Ordine degli Ingegneri di Salerno, il Collegio dei Geometri di Salerno e l'Ordine degli Architetti. Grazie al loro contributo e quindi alla loro collaborazione siamo riusciti a programmare una settimana dedicata anche agli operatori del settore, quindi ai tecnici che vogliono e devono aggiornarsi per garantire appunto qualità del proprio lavoro. L'utente finale deve sentirsi garantito da questa qualità che viene determinata dal connubio tra aziende e professionisti. E questa è la mission del Salone. Sabato mattina dopo l'inaugurazione con un seminario formativo dedicato allo smart building, quindi a quella che è la tecnologia applicata all'edilizia, quindi trasmettere all'utente il concetto di tecnologia inteso non solo come utilizzo di smartphone ma anche come vantaggi per poter in un certo senso progettare in maniera ingegneristica quello che è l'impianto piuttosto che altri sistemi di antifurto e quant'altro. Poi avremo il 10 settembre un seminario importantissimo sulla trasformazione urbana appunto in collaborazione anche con professori che vengono dall'Università di Napoli e avremo poi giovedì 13 nel pomeriggio un altro incontro per quanto riguarda la coibentazione degli invologri dirizi per poi concludere questa settimana della formazione con un evento sabato mattina dedicato appunto a quello che è un argomento del momento che è la sicurezza strutturale, quindi il sisma bonus e tutto l'aspetto e l'indotto legato alla sismica. Ci saranno anche eventi di intrattenimento? Assolutamente sì, abbiamo dei momenti, non potevano mancare i momenti lodotici, avremo sabato sera già una musica dal vivo, un concerto di musica dal vivo con Band Ami, un gruppo musicale che farà un tributo a Fabrizio De Andrè per poi praticamente avere domenica sera una serata con Monica Sarnelli che diciamo diversi di noi conoscono, dedicata appunto al neomelodico e all'intrattenimento con il suo Napolitan Show. E poi avremo durante la settimana dei incontri anche dedicati ai bambini, infatti venerdì 14 ci sarà uno spettacolo tutto per i piccoli con magia, intrattenimento con confiabili e diciamo artisti di strada e per poi concludere domenica sera con l'estrazione del weekend che sarà riservato a tutti coloro che visiteranno il salone e si censiranno a nostro punto informazioni. Il connubio tra professionisti e aziende dove il professionista deve inevitabilmente aggiornarsi e formarsi e l'azienda nello stesso tempo deve essere competitiva per promuovere dei prodotti di qualità certificati made in Italy che facciano la differenza sul mercato per arrivare a che cosa? A garantire appunto la qualità finale del progetto. La sezione Samo in formazione consta di due momenti, uno fisso che è quello di uno sportello informativo o più sportelli in cui i rappresentanti degli ordini professionali, in particolare le professioni tecniche ma non solo sono a disposizione per fornire chiarimenti ai cittadini su che cosa? Su quello che è la tematica o forse anche problematica di abitare una casa, di abitare uno spazio urbano e in particolare di costruire una casa o di ristrutturarla. Oggi il concetto è più verso la ristrutturazione, il nuovo costruito è un po' secondario. E allora su questo il cittadino utente è un po' disorientato. Dobbiamo aiutarlo il più possibile che non ne sta, ottemperando ai compiti istituzionali di ognuno, a fare delle scelte consapevoli che non sono solo quelle di abitare in uno spazio che sia fruibile, che sia confortevole ma che sia anche sicuro, che è la cosa un po' più difficile. Perché io posso mascherare, posso mettere un ottimo abito a un fabbricato con delle cornici, con un fatto di natura estetica ma poi posso trascurare quello che c'è sotto, l'ossatura e anche la sicurezza che questa mi può portare in particolare in riferimento agli eventi sismici e con un concetto che deve essere condiviso tra tutti che è quello della vulnerabilità sismica, del rischio sismico ed è la possibilità di miticarlo con interventi di miglioramento sismico o anche di adeguamento sismico. Noi quest'anno abbiamo raggiunto un po' quella che è in realtà la vocazione territoriale del Salone perché essendo un Salone principale provinciale il mobile doveva arrivare a Salerno. Cos'è il Salone? In realtà è una fiera dove abbiamo coinvolto tutti i grossi nomi dell'arretamento cioè conosciamo bene la fiera di Milano l'interazione del mobile di Milano, noi siamo una pulce rispetto a loro alcuni nomi che hanno presentato lì, alcune novità quest'anno le vedremo al Salone provinciale di Salerno ricordo la zona industriale di Salerno presso il centro agroalimentare di Salerno diciamo che questa è la quinta edizione come ben dicevi sono quattro anni che peregriniamo un po' per la provincia iniziamo, mi ricordo, siccome la fiera è biennale mi ricordo l'edizione di Battipaia, la prima edizione poi siamo andati ad Elbera a Palasele oggi arriviamo a Salerno, una splendida struttura che per l'occasione abbiamo messo, organizzato benissimo c'è un ampio parcheggio interno l'ingresso è gratuito, il parcheggio è gratuito quindi in realtà c'è veramente la possibilità di passare una giornata tranquilla all'interno del Salone visitando il Salone e soprattutto vedendo quelle che sono le novità presentate, le anteprime presentate dalle aziende quest'anno veramente sono tanti i contenuti la domotica applicata al salotto ci sono le nuove essenze presentate da grossi nomi non le dico non perché non voglia però sono tante e quindi ho paura di dimenticare qualcuno sicuramente abbiamo la possibilità poi di abbiamo attrezzato all'interno del Salone un'altra area che è un altro focus che nasce due anni fa curato da mia sorella che è ingegnere ingegnere di Sant'Anna Nia Sacarese dove abbiamo convolto un po' gli albi professionali adesso abbiamo avuto ospita anche l'intervento del Presidente Brigante dell'Ordine degli Ingegneri dove ha dato le anteprime a tutti gli effetti ci sono quattro seminari all'interno del Salone che si strutturano quindi è un importante appuntamento anche per i tecnici abbiamo, vi va di ringraziare tutti gli albi non solo quelli degli ingegneri ma degli architetti dei geometri che ci hanno supportato in questa quinta edizione quindi in realtà sono tante le novità quest'anno al Salone abbiamo curato anche l'aspetto un po' sia lo doto che per i bambini perché all'interno della settimana ci saranno delle serate a tema sui bambini con degli spettacoli con maghi, con viabili e qualsivoglia e poi abbiamo due appuntamenti importanti quello di sabato 8 dove è il giorno dell'inaugurazione la sera avremo Bandami, un gruppo bravissimo che è un tributo a Fabrizio D'Andrè e domenica sera forse abbiamo una delle voci più belle del quadro partenopeo napoletano che è Monica Sarnelli verrà Monica all'interno del Salone, farà il giro con noi e poi ci delizierà con la sua splendida voce tutti ricorderanno questa sera la sigla del posto a sola quindi anche questo porterà sicuramente un valore aggiunto a quello che è il Salone siamo in work in progress oggi abbiamo fatto la conferenza ma ancora stiamo lavorando lì al Salone con il montaggio dei mobili per ultimare un po' anche l'area esterna abbiamo un'altra area pizzeria dove uno può godersi un'ottima pizza all'interno del Salone quindi ci sono tutte le condizioni per far sì che quest'anno questo Salone abbia un grosso successo ritorno alla domanda iniziale qual è l'aspettativa? quella di crescita sicuramente ci auguriamo che nel prossimo fra due anni il Salone sarà molto più grande come presenze perché già quest'anno è soddisfacente come discorso però ci aspettiamo la presenza di altri nomi che appoggino il Salone quest'anno per una serie di problemi qualcuno è venuto più meno però sicuramente ce l'hanno già detto nei prossimi anni saranno presenti quindi l'importante è faccio un appello a Salinitani e alla provincia di Salerno essere presenti al Salone dove effettivamente vale la pena esserci e vedere quelle che in realtà sono le tendenze del mercato del Made in Italy momento importante per la città di Salerno il Salone provinciale del Mobile per la prima volta si terrà qui sì era un nostro obiettivo con gli organizzatori con il dottore Sacarese l'ingegnere Sacarese avevamo parlato in passato di fare questa bella iniziativa nel capoluogo e quindi qui a Salerno quest'anno ci siamo riusciti è un momento importante sia per loro che per noi è un momento di aggregazione per le famiglie per i bambini per gli ordini e le aziende che vengono qui sul territorio a dare mostra dei loro prodotti importante è anche il fatto che diamo dimostrazione che non solo al nord si possono fare delle belle iniziative ma si possono fare anche sui nostri territori portando dei prodotti all'avanguardia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti